Non serve un nuovo accordo sociale in astratto, ma idee concrete e un'azione efficace vie sempre più creative per trasformare le istituzioni e le strutture economiche in modo che sappiano rispondere ai bisogni di oggi e siano al servizio della persona umana, specialmente di quanti sono emarginati ed esclusi. E tra le sfide di oggi, guardate il volto umano di coloro che sinceramente cercate di aiutare. L'ha detto Papa Francesco ad imprenditori e dirigenti statunitensi, i docenti universitari, i leader religiosi e i sindacali di tutto il mondo riuniti a Roma e in Vaticano per il Fortune and Time Global Forum 2016 sul tema La sfida del XXI secolo, creare un nuovo patto sociale. La nostra grande sfida è di rispondere ai livelli globali di ingiustizia promuovendo un senso di responsabilità locale, anzi personale, in modo che nessuno venga escluso dalla partecipazione sociale. Pertanto la domanda da porci è come meglio incoraggiarsi l'un l'altro e incoraggiare le nostre rispettive comunità a rispondere alle sofferenze e ai bisogni che vediamo, sia lontani sia in mezzo a noi. Il rinnovamento, la purificazione e il rafforzamento di solidi modelli economici dipende dalla nostra personale conversione e generosità verso i bisognosi. Il Papa ha chiesto ai partecipanti al Forum di coinvolgere nei loro sforzi chi cercano di aiutare ascoltando le loro storie, imparando dalle loro esperienze e comprendendo i loro bisogni, perché ignorando il grido dei poveri rifugiati non solo neghiamo i loro diritti di aver parte alle risorse di questo mondo, ma anche rifiutiamo la loro saggezza e impediamo ad essi di offrire al mondo i loro talenti, tradizioni e culture. Questo accresce la sofferenza degli emarginati e noi stessi diventiamo più poveri, non solo materialmente ma moralmente e spiritualmente.